L'interessante è che sul posto di lavoro, quando parliamo di accettazione, io cerco di accettare, però poi provo rabbia. Tu dicevi, non so come chiamarla, ma sento che è ingiusto. Ricordatevi che quando sentiamo un senso di ingiustizia, la risposta emotiva è sempre la rabbia. La rabbia è proprio la risposta emotiva al senso di ingiustizia. Quindi provi rabbia. Ora, dobbiamo uno, chiarirci sul termine accettazione, perché se no non ne usciamo, e due, purtroppo qui si complica, ma non si può semplificare di più, chiarire i diversi livelli di cui parliamo. Primo chiarimento, che vuol dire accettare? Non vuol dire essere compiacenti, fare tutto al posto dell'altro. Cioè l'altro dice, senti, facciamo così, accettami per come sono. Io sono uno che non ha rispetto per gli altri, quindi non ti rispetto. E tu accetta questa cosa. E tu dici, vabbè, urlami in faccia. Poi dice, c'è un altro difetto, però mi devi accettare. E purtroppo se non ho fatto così, io non lavoro. Vabbè, dai, faccio tutto io e mi urli in faccia. Scusami, l'ultima cosa. Io sono anche un ladro. Vabbè, dai, allora rubami anche quello che ho. Ogni giorno ti lascio dei soldi, me te li prendi, così ti sto accettando. No, questo non è accettazione. Ok? Questa è mancata tutela di se stessi. Se una persona entra in casa mia, cerca di rubare, io chiamo la polizia. Ma non vuol dire che non sto accettando il fatto che lui sia un ladro. Per definizione è un ladro. E io agisco di conseguenza. Ma come agisco? Con che stato d'animo? Con che fine? Allora, se una persona, tu hai fatto un esempio preciso, una persona al lavoro dovrebbe fare qualcosa e non la fa. Accettare vuol dire che la faccio io al posto suo? No. Accettare vuol dire che tu noti il comportamento e dopodiché ti chiedi a che livello può essere risolto. Cioè, c'è un livello organizzativo, poi c'è un livello relazionale, poi c'è un livello emotivo. Provando rabbia, se tu vai nel livello emotivo subito, provando rabbia, secondo te risolvi il problema che abbiamo detto è lui non fa ciò che deve? Allora, lui non fa, è il dato di fatto. Se tu cerchi di risolverlo a livello emotivo, no, voglio lavorare sulla mia emozione, voglio fargli percepire la mia rabbia, no, mi scontro, non mi scontro, la tranquillità, la rabbia, se rimani solo qua è difficile che a questo livello ci sia la soluzione. Prima cosa, a livello organizzativo, chi è che suddivide i compiti? Sei tu? Allora chiami Gian Domenico e dici, Gian Domenico, scusa, allora ridefiniamo un attimo i compiti, tu ti occupi di questo, io mi occupo di quello. Livello organizzativo, no, ma io sono triste, dopo parliamo di questo. E ne parliamo, però ora parliamo dell'organizzazione. Io nella maggior parte delle organizzazioni, delle aziende in cui lavoro, la maggior parte delle consulenze organizzative che faccio, credetemi, vedo questi tre livelli sempre impastati tra di loro. Cioè non si distingue più che cosa è la relazione personale, che cosa è l'organizzazione del lavoro e che cosa sono le emozioni che proviamo. E quindi ovviamente se non abbiamo una distinzione netta, iniziamo per esempio l'aspetto più comune a prendere come un problema personale o relazionale col mio collega, un problema che invece è organizzativo. È ben organizzato il lavoro? No. E allora è ovvio che vai subito a finire qua. Ti direi, prova e provate tutti a utilizzare questa gerarchia. Prima cosa, vedi se c'è una buona organizzazione, se no rivolgiti a chi deve organizzare. Perché se Gian Domenico non sa che deve fare il suo lavoro, non è un problema tuo. Diventa un problema tuo nel momento in cui tu fai anche il suo. Però a quel punto è un problema relazionale e cambia il livello. Allora Gerardo dice, io per mia cultura personale sono abituato a mettere tutto a posto e a mettere il materiale che serve per quella giornata o per quel turno, eccetera. Il problema è che quando vedo che l'altro non lo fa poi ci sto male, mi arrabbio. Questa è la pretesa. Siccome io faccio il comportamento dell'altro poi diventa un mio problema. purtroppo a certi livelli e qui andiamo a livello organizzativo il livello organizzativo non coincide e non può coincidere con il livello emotivo. Che voglio dire? Ci sono diversi modi di lavorare come ci sono diversi modi di stare al mondo. Ma se io per me per mia cultura personale sono abituato a non buttare le carte per strada non è arrabbiandomi quando vedo che un altro lo fa o rinunciando a farlo perché gli altri non lo fanno che risolvo il problema. E qui, perdonatemi, ora parlo da italiano pienamente nella cultura italiana e non sono di quelli che gli italiani sono i peggiori anzi io sono fiero di essere italiano però un po' perché la nostra cultura noi viviamo così. non conosco probabilmente bene altri paesi però ho amici che abitano vivono in altri paesi o amici di nazionalità diversa vi posso dire che rispetto ad altre nazioni in Italia è molto più forte questo senso del lo farò quando tutti lo faranno. Perché non rispetti i segnali stradali ma dai ma vedi tutti quanti passano e siccome tutti passano io non faccio quello che dà l'esempio faccio quello che si accoda ok? Perché fai il nero nella tua attività ma dai il nero lo fanno tutti ma prova a dire faccio il nero perché mi serve faccio il nero perché voglio evadere le tasse su piccole somme perché lo ritengo giusto questo è un atteggiamento molto più responsabile e ci lamentiamo proprio perché ci de-responsabilizziamo il tuo nome? Rosanna Rosanna ok Rosanna bravissimo tutte le cose che stiamo dicendo sono legate noi ci lamentiamo perché non affrontiamo i problemi nel caso di Gerardo il problema a livello emotivo e relazionale può essere semplice io si chiama esprimere non affermare esprimere se stessi io mi chiamo Gerardo è per mia cultura personale per mio modo di fare quando sono in turno io metto tutto a posto prendo il materiale per quello che serve non spreco niente perché io sono Gerardo e faccio questo dopo di me viene Gian Gilberto ok Gian Gilberto farà cose diverse non mi arrabbio perché non sono io a supervisionare Gian Gilberto rispetto il livello organizzativo al massimo quando c'è una riunione perché queste cose si fanno alla luce del sole se vogliono avere effetto dico scusate io ho una proposta siccome io cerco sempre di mettere tutto a posto perché non lo facciamo tutti secondo me il reparto funziona meglio così se chi organizza purtroppo e capita anche questo ma no no tu fallo lui se vuole lasciare tutto in disordine lo facesse devi comprendere che non è più un problema tuo e che due cose sono importanti quelle che abbiamo detto prima tu non sei chiamato a ordinare quello degli altri ok e tu non sei chiamato a disordinare il tuo solo perché gli altri lo fanno e perché chi organizza non ci tiene a questa cosa tu esprimi te stesso e ti comporti in questo modo invece risolto questo ascoltatemi risolto questo il problema poi va su questi due livelli il fatto che tu ti arrabbi e inizi a lasciate imbastare il termine ma sempre uso termini forti e teatrali per farvi rimanere impresse inizio a odiare il mio collega perché lui non fa come faccio io ora qui saliamo proprio di livello vi butto là proprio una bomba e poi lasciate solo non mi fate domande su questo ve la lancio così lasciate che vi lavori dentro e un giorno vi tornerà in mente in realtà quando io arrivo a arrabbiarmi perché gli altri non lo fanno è perché io stesso mi sto imponendo quel comportamento ma non è un mio comportamento quando io sto in pace con me stesso quando io metto in ordine perché mi piace mettere in ordine mi dispiace che Gian Gilberto non lo fa però non sento rabbia l'esempio che faccio sempre è delle persone che notano i comportamenti altrui e ripeto a me capita tutti i giorni togliamo il lavoro così lo comprendete meglio e ti dicono guarda io non sopporto c'è la mia vicina di casa che c'è ruba io ho saputo che questa prende proprio le cose degli altri perché hai rubato a casa tua no ma sai che ha fatto male a qualcuno no ma proprio l'idea che questa si può approfittare di qualcuno guarda certa gente non dovrebbe stare al mondo ma perché è noto una carica emotiva una rabbia che è come se non so avesse avesse fatto qualcosa di preciso a lei a questa persona perché c'è quella carica chiedetevi questo perché io ho bisogno di scaricare questa tensione emotiva su chi fa quello che io penso che non non si debba fare perché in realtà io non sono in pace con quel comportamento se io non rubo perché non rubo posso al limite denunciare un furto ma non mi arrabbio non lascio che questo rovini il mio stato d'animo quando uno dice eh no ho una collega che tradisce il marito no no ma guarda veramente questa gente io sento persone esprimersi così questa gente gente non dovrebbe stare al mondo ma perché hai paura di quel comportamento oppure stai qui è la bomba che vi lancio e poi rimane così sta invidiando la collega lo so che sembra lo so che sembra brutto ma tu dici ma come io trattengo trattengo io devo rispettare le regole io lavoro bene non tradisco mio marito e faccio la brava ragazza in tutto questa proprio tradisce proprio serena ed è pure felice eh no io la odio questa persona perché perché in realtà c'è qualcosa dentro di te che rimane compresso vabbè ho detto che era una bomba quindi ora ok chiudiamola qua tenete d'occhio questa tripartizione chiedetevi il problema di Gian Gilberto che non fa qual è il problema che io mi arrabbio con lui che noi non andiamo d'accordo o forse un problema organizzativo che non è chiaro qua chi deve fare cose come vanno fatte le cose e imparate a passare da un livello all'altro questo non solo al lavoro questo anche nelle relazioni perché spesso noi scambiamo per problemi caratteriali usiamo tutti questi termini caratterialmente non mi trovo con la mia amica oppure mi fa arrabbiare mio marito perché sembra sempre che è un fatto di relazione o di emozione molto spesso tuo marito tua moglie ti fa arrabbiare perché non è chiaro proprio come organizzare delle cose anche nella vita concreta reale e pensiamo che sia un problema sempre emotivo le emozioni nascono a volte da qualcosa che è molto più semplice da risolvere ok ciao